Senti, già te l'ho detto, la parrucca arancione oggi non te la posso prestare. Non posso! L'ho persa, capito? L'ho persa! Ma basta, no, va! L'ho persa, capito, va! Perfetto, vai! Lo sai, dottore, mi sono passati davanti tanti giorni, anche se poi finivano sempre per stare lì dentro. Eh? Sì, sono stranita, e allora? È stata una settimana un po' difficile, sì. Io mi guardo che dopo uno schermo su una parzelletta! Sì, non è giro, non è giro! Vabbè, domande? Che domande? Che mi prendo? E lei che mi ha detto? Ecco, mi tagliamo questa macchina! Sì, vai! La parrucca, qual è la parrucca? Adesso? 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 Grazie a tutti